questo è il campo da gioco tra 5 minuti si inizia non devo farlo, voglio solo tornare a casa mia, vorrei solo tornare alla mia casa e spero che lo so, va bene sono pronto, spero che io tornerò a casa se tu vinci, si potrai tornare a casa, si hai ragione, ma solo così potrai tornare se no, se no non riuscirai, se no riuscirai a tornare a casa e spero che non tornerai a casa ok, iniziamo grazie